Modric della Croazia scarso, Cristiano ti metto Pujol o Sergio Ramos? Pujol Dome invece ci chiede il super dotato Difensore della Nazionale Azzurra e dell'Inter? È vero? È vero questo Campione d'Europa con la Nazionale e vice campione d'Europa con l'Inter? L'uomo che ha messo in tasca Erling Holland, Francesco Acerbi Ciao Francesco, come stai? Bene, ciao a tutti, bene, sto bene Bene perché? Bene perché sono qua con voi Io ti ho portato un regalo che ti darò dopo e che faremo vedere poi sulle storie che cos'è Non lo dovrei aprire adesso ma dovrei fare un'azione Ok Tu mi hai portato lì un regalo Sì, le scarpe Le hai tenute per noi Le ho tenute No, sono nuove Ah no? Cioè non la vuoi proprio usare? No, sono nuove Con la scritta Cerbi Possiamo andare qua? Rosa perché è rosa La mettiamo qua Sembra un prodotto pubblicitario Però non lo è Che cos'è per te la scarpa? Hai iniziato a giocare un hobby, una passione? Era una passione Poi per non stare qua Giugarmi troppo Poi è stato quasi un hobby Volevo smettere di giocare a calcio A che età? Perché a 16 anni Ero a giocare tipo all'Atletico Civesio Con gli amici La squadra era la promozione Giocavano degli allievi Difensore? No, no, no Centrocampista Attaccanti Ho 20 gol al campionato Bellissimo E mi sono divertito un sacco Ho divertito l'età Poi sono andato a Pavia Da lì ero un po' più bravo degli altri E poi ho fatto È diventato una passione È tornata una passione Dopo la malattia Prima era più un lavoro Un divertimento Siccome ero più bravo degli altri Sono arrivato Comunque la mia ignoranza sportiva È venuta fuori nel calcio Però dopo Chi è che ti ha indietergiato Da attaccante a difensore? Il signor Clerici Roberto Clerici Che All'età di 7-8 anni Andai a Brescia Da Casalmaioco E Mi presero come attaccante E il primo allenamento Va vai dietro Che è meglio Vabbè Lui praticamente ti ha detto Lì non fai danni In difesa? Sì Tu non fai danni lì Tu ti vedo meglio qua Ma subito Pochi giorni Mi ricordo Subito in difensore centrale L'hai ringraziato Sì Perché dopo Troppo è scomparso Grande grande persona Va bene Ascolta Passiamo a Euro 2024 24 Girone di ferro Girone di ferro Albania Probabilmente Non è la squadra Materasso No Giusto? Croazia e Spagna Ti faccio vedere Tre giocatori Allora partiamo da lui Ti faccio vedere tre foto Morata Lo dovrai marcare Lo dovrai marcare Sì Speriamo di giocare innanzitutto Speriamo di andarci Speriamo di scarmare Ste robe qua Però è un giocatore forte Sto facendo bene Un giocatore che ha Che ha viaggiato in squadre Forse le più forti De oro una delle più forti d'Europa È un grande generoso Fa anche gol È un lavoro per la squadra È un giocatore forte Quindi non è solo lui E ci ha già fatto gol? Ho fatto gol Però ho perso Faccio vedere un altro Modric Della Croazia Scarso Scarso A cosa? A play forse Grandissimo giocatore Ma Niente da dire Fenomeno A 38 anni Sta ancora meglio Di tanti Fa ancora differenza Quando gioca Anche con la Croazia L'ultima partita Ha una mentalità Una forza Beh Se stai a quel livello A 38 anni Devi essere È il top in tutto L'ultimo? Oh Asla Asla è fastidioso È lì in mezzo Può darci No Fa piacere Comunque incontrare Anche Brojovic Fa piacere Comunque Della Croazia Della Croazia Fa piacere incontrarlo Fa piacere lui È un ottimo giocatore Devi migliorare Il senso Che lo sa benissimo Lui deve crescere Ma perché è giovanissimo Ha tutte le qualità Per fare Per crescere Fare la sua carriera Perché ha potenzità Importanti Dipende da lui Mi fa piacere incontrare Comunque gente che Si gioca insieme Tutto l'anno E incontrare una sfida E lì È molto importante Poi magari Non lo saluteremo Neanche Perché No scherzo Ascolta Una domanda Te la voglio fare Ce l'hai fatta Ok Hai 35 anni Giovane Vai per i 36 Non ti sei montato Sei rimasto umile Quando hai capito Di avercela fatta Cosa hai pensato No Non ce l'ho fatta ancora Perché Come no Perché ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quando L'ultimo giorno Che giocherò Dirò Ce l'ho fatto meno Beh però Ce l'ho fatta Nel momento in cui Mi sono preso Quello che ho potuto Prendere dopo la malattia Ce l'ho fatta Vuol dire Che da lì in poi Non ho più niente da dare Però se l'hai rimasto Io la vedo così Ce l'ho fatta In senso No Devo dare Fin quando È mio ultimo giorno Cioè farò tutto Il reso So che devo essere Orgoglioso Quanto ho fatto Quello sì Te lo godi alla fine Però me lo Non posso Non posso distrarmi Da ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ma Ho ancora da dare Voglio ancora dare Pensi sempre alla prossima partenza Sempre In sostanza è quello Sempre Devo È un obbligo È un Non posso Fare diversamente Va bene Contento Finita Dopo se è l'Inter La vittoria è normale Deve essere La mentalità deve essere Quella vincente Poi cercare di essere Quella vincente Poi dopo A fine dell'anno Fai i conti E poi si inizia subito Ora passiamo Al presa bene Presa male Ti chiedo di raccontarmi Il momento più bello E il momento più brutto Parti tu da quello più bello Può essere anche Di vita privata La vita privata Le bambine Che sono nate Stanno bene E poi il calcio Per la rinascita Già rinascita Dopo la mattia Avrei avuto la fortuna Di Di essere tornato A quello Che mi piace A grandi livelli A grandi livelli Comunque a livelli Comunque sì A grandi livelli Momento più brutto In generale Della tua vita Che ti Ti affidi Non è nel calcio Ti affidi A persone Che credi Che siano amiche E questa è la cosa peggiore Che uno può Perché poi il calcio Va bene Ma è quello Passiamo alla top 5 Ti chiedo 5 giocatori Che hai marcato Quindi 5 attaccanti Che hai marcato Partendo dalla 5 Dai cristiano Ti metto Turam Metto anche Lautaro Però Io siamo Metto Turam E Lautaro Perché sono giocatori Ataccanti forti E Turam Perché comunque Contegge la palla bene Porta in giro Tra 4 avversari Alla volta Sembra di prendere la palla Non la prendi Lo vedo Anche contro Cioè Non riesco a prendere la palla Magari anche gente Molto forte fisicamente Quanto lui Mi ha impressionato tantissimo Lautaro Perché è un giocatore Che lotta Come è Poi forte Avanti la porta C'ha tiro C'ha fame Da giocatore C'ha anche C'ha anche l'assist Lui Quindi Ha tutto C'ha un giocatore Completi Tra virgolette Poi ti metto Bebra Perché ha tutto Anche lui A Holland In prima posizione No in seconda Fortissimo Giocatore Cioè Sono tanti attaccanti forti Perché Cristiano Ronaldo Nel curriculum Fanno 200.000 gol Sono quei giocatori Che magari Tocca poco la palla E ti fanno gol In ogni partita Holland è uno di questi Grande fisicità Grande velocità Grande forza In area Un animale Ha fame Sono quelli di attaccanti Che hanno fame Hanno qualità Che ti mettono in difficoltà E prima Higuain Perché Higuain Però è più forte Che c'è Stava bene Aveva tutto 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 Forza Esplosibilità Tiro Destro Sinistro Attacco della difesa Profondità Viene incontro Non sbagliare Un passaggio Uno Non ho mai visto sbagliare Non stava bene Aveva il tempo In area Aveva il tempo giusto È al volo Fortissimo Tutto Per me è più forte Che è stato Qua in Italia Ok Abbiamo fatto gli attaccanti Passiamo ai difensori Ti dirò Cinque coppie Di difensori Mi dovrai scegliere Questo o quello Sei pronto? Vai Nesta Nesta Cannavaro Nesta Materazzi Perché Importante Perché Sono cresciuto con Nesta Come difensore L'ho visto Cioè era il tuo Era il tuo Sì Era uno Come prospetto Il mio prototipo Difensore Come mi piaceva di più Ti ispiravi a lui? Sì Sto parlando di grandi campioni Materazzi O Samuel Niente da dire Samuel Sono tutti i due animali Quindi Però Samuel Ti stai salvando Sono tutti i due animali Sì Così Materazzi Non si incanna Non si cazzo Ho detto uno Per uno Devo scegliere Va bene Puyol O Sergio Ramos Puyol Perché Perché Come difensore È un difensore Scalvini Buongiorno Buongiorno Perché Caratterialmente Vedo Grande qualità Scalvini È bello da vedere Impostare Tutto A tante qualità Infatti A 20 19 20 Stai parlando Di Giovane Giovane Però Magari in questo momento Preferisco L'ultimo Bastoni o Cerbi Darmiano Tanto adesso Ci arriviamo Stasera è un calcetto Devi scegliere 5 giocatori Compreso un portiere Da chiamare Abbiamo Di Marco Barella Bastoni Io È uno che faccia gol Un portiere Eh ma lui 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 che fa i calcetti Sa che ogni 5 minuti Si gira Sono io come portiere E poi ti chiamo Miki Far gol Far gol Lo dite sempre A meno fa un po' di risultati Rimuntato Ho visto il video Dell'Inter L'altra volta Va bene Ora devi mettere Un allenatore In panchina E devi scegliere Un allenatore Fra Conte O Mancini E ovviamente Motivarmelo Io Conte L'ho avuto Due anni Prima di andare all'Europeo Che poi non sono andato Ma Mancini Dico Mancini è un butto europeo Quindi ti dico Mancini Ok Questa che ti faccio adesso È ancora più semplice Simone Inzaghi O Allegri Simone perché mi fa giocare Simone Allegri L'ho avuto al Milan Però al Milan I tempi del Milan Prima della mattina Non posso neanche contare Perché è giusto Già andato che mi faceva giocare Allegri Quelle poche partite Perché era vero Da appendere Sopra Cioè Non essere neanche convocato Tra virgolette Però Simone Sei pronto Ti faccio la domanda bastarda Quindi Questa è una zampa di gallina Ok Se risponderei la domanda bastarda Non la mangerai Viceversa Il compagno più scarso Con cui hai giocato Siamo in difesa Dormiamo Bastone Devrai Io Centrocampo e attacco Sono forti Niente L'ha scampata Sto giro Non ti ho chiesto una cosa prima Avete perso la finale a Istanbul Cosa avete fatto la sera? Dopo quanto tempo l'hai smaltita? L'hai? L'avete smaltita? Perché magari da fuori Allora il giorno dopo Non è il giorno dopo Perché eravate con la coscienza a posto Che avevate fatto tutto Cioè il senso può essere No Quando perdi C'è sempre qualcosa Che ti viene in mente Dire Potevi Si poteva Questo Non va bene dirlo Cioè va bene Nel momento in cui C'è veramente qualcosa Non andava Però sai Sono tutte esperienze Che fai E non pensavo a nessuno Forse non pensare Si pensava mai Delle varie in finale Quello Di poterla vincere veramente Forse quello che è L'esperienza Che giocare Certe finali Certe partite Però no Il giorno dopo Ti dico il giorno dopo Come nei giorni successivi Ma poca Finito Perché Ti fai un esame di coscienza Vedi cosa potevi fare E poi vi riparti Devi ripartire Io se vinco qualcosa Riparto il giorno dopo Festeggio Ma riparto E non c'è niente da dire Poi ogni tanto Qualche ogni giorno Dici cavolo Potevi Si poteva Ti viene da pensare Però alla fine E' andata come Come doveva andare Ascolta Passiamo adesso A Una raffica di domande Che Ci sono arrivate Sulle storie Ok E voglio partire Dalla prima Che si chiama Claudia Scarp La conosco Quanto è adorabile Sua moglie Qui È una Su un piatto d'argento Ti sto servendo Se ti devi far perdonare qualcosa Lo puoi fare È molto adorabile No no La ringrazio per la domanda È fantastico Sì è una brava Si devo farmi perdonare un po' di robe Ok vai No no è top Potrei chiedere Di meglio che lei Ok Domanda di Mattia Bitti Avresti mai creduto Di fare una finale europea Dopo tanta gavetta Quindi hai fatto Regina Chievo Sassuolo Milan Ma non lo so Io guardo giorno per giorno Quindi quello che mi capi Io lavoro per Far sì che Io faccio il mio meglio Nel momento in cui Poi arrivano i finali Tanto meglio Io faccio di tutto Per raggiungere i miei obiettivi Poi Quello che viene Viene Ok Domanda di Giuseppe Venezia Qual è la tua tecnica Per marcare al meglio Tutti gli attaccanti Che sfidi Io sai che non guardo Un attaccante Guardo mai un attaccante Lì a studiare L'attaccante Non guardo mai Guardo dove è la palla Guardo dove è lui Guarda il movimento So se è forte In velocità o meno So se è Quindi se è veloce Sai come prenderlo No no so So anche Google Può essere veloce quanto vuoi Ma se l'altro non calcia Può anche andare Certo Cioè sto molto attento Dove è la palla Il posizionamento del corpo Dell'avversario Di chi è la palla Del movimento Cosa potrebbe fare Sto molto attento A questi particolari Quindi concentrato Molto concentrato Ok Domanda di Frankie Compagno più pazzo all'Inter Pazzo Barella Barella Perché È pazzo buono Perché fa ridere A me fa ridere Poi è un ragazzo A me fa Anche di Marbe Sono stupidi No stupidi Stupidi Però se lo Si impai Voglio bene Sono stupidini Sono stupidini Sono bravi Lorenzo Giordano Ti chiede Come ti trovavi A Reggio Calabria Top Fantastico Meraviglioso L'anno più bello Della mia vita E allora C'era il Sassuolo Dove andare al Sassuolo A Sassuolo Mancava due giorni È arrivato a Reggio Io mi ricordo Che ero In piscina Mi favo andare Ma sì Andiamo a Reggio Subito Firmato Mi ho firmato Dopo due ore E ma ero Ero entusiasta Perché Non lo so Era già nell'aria Poi dopo lì È andata bene Purtroppo Col senno del Po E lì Mi sono mangiato le mani Perché era un po' Potevamo fare qualcosa di più Che solo i pre-off Il gruppo era fantastico Mi sono divertito tantissimo Ho dato tanto In campo Ma non me ne accorgevo Di stare in una piazza così importante E la gente mi voleva bene E io li volevo bene Perché mi davano Io davo Loro bravissime persone Mi sono trovato benissimo Cioè Tutto Peccato Cioè lì c'è un rimorso Un po' l'impianto Di Col senno del Po E potevamo fare qualcosa in più Sognare con la promozione Che era inaspettata Avevano tanti giovani Ok Invece Krisev ti chiede Come la malattia Ha cambiato l'uomo E il calciatore È una risposta forse Che hai già dato Tante volte Il calciatore Perché ti ritorna la passione Che avevi già Che io ho smarrito Avevo smarrito E come uomo Capisci molte cose Quelli che sbagliate Se hai sbagliato qualcosa prima Certo Che avevi fatto nella tua gioventù Che tutti fanno gli errori E hai capito quali sono gli errori Alessio Piazza ti chiede Rispetto ad Holland Come marcheresti in Bappé? Spendiamo sul tecnico tattico Dipende da Uguale Uguale Sapendo che hai Bappé di fronte Sapendo che Hai le caratteristiche Per farti male In qualsiasi modo Certo L'attenzione La cattività La concentrazione Quello che fa La differenza È un difensore Ok Tatiana invece Non ti fa una domanda Dice nessuna domanda Ah c'è un giocatore meraviglioso Lo ringrazio per tutto Grazie E poi alla fine Sotto il tuo Sotto il tuo I tuoi post in realtà Ci sono spesso questi Comment Lapo Nordi Attaccante più erognoso Da marcare in questa Serie A In questa? Manzappato è uno di quelli Girou Girafi L'animale Se sta bene L'animale Ci sono tanti No perché sono i nomi No Della tua stessa stazza Praticamente Sì ma perché Poi hanno Ficilità Sono forti E quindi ti mettono Ti mettono Eh ma Serie A Ci sono gli attaccanti Tutti Se non stai attento Ti mettono tutti in difficoltà Ok invece Santo ti chiede Cosa hai provato Quando il tifoso Ti ha regalato Il retino Per marcare Holland Per pescarlo Ho regalo per te Per la finale Per Alan Io non portafortuna Aggiattalo Prendilo Portafortuna? Sì sì sicuro Grazie Grazie Mi sono messo a ridere Non pensavo Che diventasse virale Però è stato simpatico È stato bello Emanuele Mangilli Ti chiede invece Compagno di squadra Più sottovalutato Io Più sottovalutato? Tu Più sottovalutato Non ce n'è Questo era per non rispondere Questo è per non rispondere Più sottovalutato Sono quei giocatori Un po' me Come Matteo Che sono un po' in Sordina E dico Matteo Perché gli altri comunque Di Marco Turam Lottaro Ciala Varella Bastoni Gli altri sono giovani Certo Dovono crescere Procoli è Dico Dico Matteo Ale Carbo invece ti chiede Campo più difficile E rumoroso Dove giocare ad avversario? Napoli Napoli è una piazza Anche Firenze Però Napoli Anche A Torino Partite brutte Giochi è Vinci poco Napoli Gioca bene Campuela Poche volte Ha vinto L'altro giorno L'ultima volta Con Conte La penultima Nel 97 Sono scampi Anche a Torino È difficile Vinci poco Vinci tanto Quindi sono campi Pesanti Difficili Laura ti chiede Il tatuaggio Più significativo che hai? Il prossimo Quello della famiglia che farò Quindi adesso non ne hai uno? Ce li hai fatti a caso? Più significativo Ma il più Felice ti chiede Quanto è dura Marcare Lautaro in allenamento? Sono sempre Con me Quindi Il mister è bravo A farci In squadra? Beh Ma giocando ogni tre giorni Non è che puoi far tanto Quindi le partite Le cose così Ne fai veramente poche Quindi Ok Più le volte che ce l'hai Che non ce l'hai Dome invece ci chiede Il Super dotato Nello spogliatoio Dell'Inter Però ci stava Allora qua invece passiamo a due domande Degli haters Ok Uno di Federico e uno di Luciano Non vado avanti con i cognomi Come ci si sente ad essere così Sopravvalutati Un altro ha scritto Ritirati sei finito Cosa ne pensi? E il senso Il senso di questa domanda Deve essere Cioè rispondere con Non col nervoso Non di pancia Deve essere Rispettando quello che hai detto prima Secondo me Secondo te Dopo quello che ho passato In fischio Ero malattia Due mesi Uno che si sono finito L'altro che dice che Ma secondo te Me la prendo per questi qua Quindi Posso scrivere anche altri Quando ho ricevuto Delle robe Questo mi fa divertire Ma non mi interessa Ma è la loro opinione Ma è la certa No no io anche Io posso dire Io mi immagino Anch'io da tifoso Quando ero piccolo Ma immagino Avesci giocato a calcio Metto lì davanti a televisione Tifo In squadra Dico che pippa Deve smettere di giocare a calcio Magari lo penso veramente Ma perché Perché in quel momento Sta facendo male Esatto Mi entra in quel mood Che dici Va bene la pippa Finisci lì Ma normale Ma deve essere una cosa normale Che uno Ti dice Rispondo a queste Che uno ti dice Quello che vuole Tra Ovvio Se qua sei ai limiti Scars Vai a patinare Vai a pescare Se ne frega Però è oggettivo Che non sei Sopravvalutato Cioè lo dicono i numeri Lo dice l'allenatore Pure sopravvalutato Va bene Ascolta Ultime due Come era Malesani Questa è una domanda Io non c'ero Eri fuori Ero con la malattia Però mi ricordo Un aneddoto Che Io c'ero Dopo una chemia Non so Dopo una chemia Non mi ricordo neanche Per presentare tutto Eravamo in palestra C'era Pegolo Pegolo portiere C'era Luca Bravissimo Mi sembra che Abbia sbagliato proprio un nome E ci ho messo a ridere Che cazzo Non sono anche i nomi Non si ricorda No no Mi sembra che c'era Luca Però una cosa del genere È combinata Vabbè avrà avuto un lapso Sì Capita Però peccato Che non l'hai vissuto No Ci abbiamo visto Anche le cinque giornate È stato poca Esatto Sui social sei simpatico Ok Sei così anche dal vivo E sei tra quei cinque ignoranti Dello spogliatoio No No Nel senso Ero molto più ignorante Però Sì Io sono sempre comunque La persona di prima Nel senso che sono migliorati Però Sì Mi diverto con loro Per far ridere C'è probabilmente Perché ridono Scherzano Tutto il gruppo Ride Scherza Io dico loro Ma veramente tutto È un Bellingham o Musiala? Beh Per quello che sto facendo Bellingham Però anche Musiala? Forte Forte vero? Centrocampo con lui Bellingham? Sarebbero complementari I giocatori forti Vanno sempre bene ovunque Non c'è niente da fare Uno può dire No a questa caratteristica I giocatori forti Dovano giocare C'è poco da fare Vanno bene Vanno bene Sempre Io così Va bene Grazie Allora questo Me lo porto a casa Lo mettiamo in studio Ok Ho portato il libro Da farti firmare E poi ti devo dare il regalo Ma questo non lo devi aprire Se vuoi guardarlo Guardalo No Dimmi te No Il giorno prima o il giorno dopo Adesso scegliamo Prima di andare online Con la puntata Questo lo porto a casa Portalo a casa Lo apro No vabbè Se vuoi aprirlo Aprilo Non lo facciamo vedere qua Ma poi lo metterai dentro Lo metterai dentro le tue storie Perché No apro apro Apri apri se vuoi Guardalo Dai dai aprilo Dai dai Ti penarizzate Dai ti penarizzate No vai tranquillo Non posso dire l'azione Che tu dovrai fare Ma Che succede? È lui Eh Vabbè Magari l'artista Che l'ha fatto? Magari non è proprio L'ha fatto vittoria mia figlia Magari non è un ottimo artista Beh Con quello poi dovrai fare qualcosa Un'azione Lo fai meglio Lo fai meglio Fai l'azione Lo metti sulle storie E rilanciare Quando è che Quando è che rifai il prossimo? Qui scrivi quello che vuoi Quello che vuoi Ci starebbe un altro libro Oh dai È bella sta idea È bella Sì No il titolo Tra l'altro il titolo è bello La scatola La scatola Quando la apri Fai la storia Prendi quell'oggettino lì E poi ti dico dove metterlo Perché se lo dico adesso È piccolo L'hai già fatto Quindi viverlo in due Grazie Grazie